Gli uomini sono rimasti in gran parte estranei a questi mutamenti, in parte ostili, in parte con un retteggiamento di sufficienza o di superficiale, ma non reale, concreta adesione. Questa sfasatura è causa di una gran parte di fallimenti matrimoniali. Il tentativo di forzare la famiglia entro gli schemi tradizionali non potrà che acutizzare i conflitti, non agevolare gli uomini nella loro maturazione, che ormai è indispensabile. I maschi si sentiranno approvati, incoraggiati, tutelati nei loro antichi privilegi e indotti più che mai a riaffermarli, anche al limite, con la violenza. E in effetti è sempre più diffusa la violenza in famiglia, sulle donne, sui bambini. È per questo che, a mio parere, è assolutamente necessario e urgente che venga istituito un servizio sociale specifico per le donne maltrattate, violentate, per le donne che non possono attendere in casa la separazione con il marito violento, una casa delle donne, un luogo fisico dove possano rifugiarsi temporaneamente in caso di emergenza, un luogo dove esse possano in ogni caso ricevere aiuto, consigli, informazioni, quando siano state picchiate, maltrattate o abbiano subito violenza.